Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ancora di nuovo, tanto per cambiare, come sempre, ben ritrovati qua nel solito, usuale, disordine della mia libreria. Allora, questa sera si parla di uno dei personaggi più particolari, di uno dei personaggi più discussi e se vogliamo anche più discutibili della Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché parliamo di lui, eccolo qua, in questo bellissimo ritratto ufficiale, nella sua divisa da ammiraglio, quest'oggi parliamo di Wilhelm Canaris, il capo dell'Abwehr, il comandante dello spionaggio militare tedesco. L'uomo che con la sua abilità di spia, con la sua abilità di agente segreto, raccolse, in dubbi successi, ma ebbe per tutta la durata della guerra, un comportamento contraddittorio, sì, contorto a volte, decisamente tortuoso anche. Un uomo che è stato definito da qualcuno l'amleto tedesco, per i suoi dubbi, le sue indecisioni, il suo comportamento con luci e ombre, con una incapacità, se vogliamo, di essere chiaramente definibile. C'è chi lo definisce un eroe dell'antinazismo, c'è chi lo definisce un traditore, c'è chi lo definisce un uomo che per tutta la sua vita non seppe mai che cosa fare tra l'opposizione al nazismo e l'esserne complice e membro del regime e della struttura del regime. La storia di Canaris più o meno la conoscete tutta, tutti, la feroce rivalità tra l'Avver, il servizio segreto militare e l'OSD, il servizio segreto, il servizio informazioni delle SS, la FAIDA fra le SS, cioè fra l'SD, il SICERAI DIENST, il servizio di sicurezza e informazioni delle SS e l'OAvver, il rapporto tormentato, tormentoso, ipocrita anche che c'era tra Canaris e Heidrich, il carattere, il modo di fare dell'ammiraglio che era quantomeno eccentrico, quantomeno bizzarro, che secondo me dava adito veramente a molti sospetti sulla sua stabilità mentale. Perché? Allora, il fatto è semplicemente questo qua. Io cerco di farvela breve, cioè elencarvi tutta la storia dell'OAvver, sarebbe un esercizio che porterebbe via veramente tanto, 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 tanto tempo. Cercherò di essere più, come dire, conciso possibile parlandovi delle stramberie dell'ammiraglio per farvi rendere conto di che razza di persona fosse. Allora, il fatto è questo qua, scusate gli occhiali, ma leggerò, leggerò dalle pagine di uno dei miei libri alcune cose su Canaris, perché oggettivamente trovo molto più comodo appoggiarmi alle pagine di questo libro scritto, scritto dagli storici americani Helling e Von Lutthi Howe, che era stato pubblicato qualche anno fa dalla defunta Hobby and Work in una collana molto, molto, molto interessante. Cioè, di solito la Hobby and Work non è che pubblicasse chissà che cosa di interessante, ma ogni tanto qualche cosa di buono lo tirava fuori pure lei. Allora, il fatto è questo qua, il rapporto tra Heidrich e Canaris, il carattere e il modo di fare di Canaris, che oggettivamente sono quanto meno sconcertanti. Allora, Heidrich, Reinhard Heidrich, il capo dell'OSD, l'uomo senza anima, l'antropoide, colui che di umano aveva soltanto l'aspetto, il futuro boia di Praga, il futuro governatore di Bohemia, il Reich's Protector di Bohemia, l'uomo che praticamente era stato definito senza cuore, senza anima, l'uomo di ferro, il prototipo del perfetto nazista. Aveva un rapporto, come dire, quantomeno schizofrenico o bipolare nei confronti di Canaris. Un'amicizia interessata, una continua lotta a coltello per stabilire competenze e una continua faida tra i due servizi di informazioni, quello dell'SS e quello dell'esercito. È una cosa molto nota, io non penso che ci sia neanche bisogno di ripeterla, ne parlano decine e decine di libri sulla storia della Seconda Guerra Mondiale. Heidrich, pignolo, metodico, freddo, calcolatore, estremamente abile nella pianificazione. Mentre, come dire, Canaris era il suo esatto opposto. Il vice, uno degli aiutanti più, insomma, uno degli uomini più vicini a Heidrich, ovvero sia Walter Schellenberg, sosteneva che Heidrich voleva saperne sempre più degli altri, sapere tutto su tutti, sia sull'aspetto politico e professionale che su quello privato delle vite dei personaggi che seguiva ed adoperava questa conoscenza per renderli completamente dipendenti da lui. Leggi il ricatto, arte nella quale Heidrich era un assoluto maestro. Appunto per accrescere le proprie conoscenze, Heidrich aprì segretamente una casa di tolleranza in uno dei quartieri residenziali più eleganti di Berlino, il famoso Salon Kitty, un postribolo imbottito di microfoni e microspie che rese preziosi servizi all'OSD e che gli diede molte informazioni. E c'è anche la storia di Heidrich che ne era un cliente affezionato e che ordinava sempre di spegnere i microfoni quando ci andava lui. Una volta il suo vice, Alfred Nojox, volle disobbedire ad Heidrich, Heidrich se ne accorse e gli fece chiaramente capire che se ci avesse riprovato sarebbe finito a Mauthausen senza passare dal via. Allora, dicevo, Heidrich pignolo e metodico, Canaris tutt'altro. Canaris era un direttore distratto, delegava le operazioni di ordinaria amministrazione ai capi delle sezioni e di conseguenza l'Abwehr, il servizio segreto militare, che era già fortemente decentralizzato, finì per espandersi oltre il suo controllo. Canaris preferiva trascorrere il tempo occupandosi di quella che chiamava la politica dell'informazione segreta, ovvero sia impiegando le informazioni segrete dell'Abwehr per influenzare discretamente la politica interna e destra del Terzo Reich, contrariamente alla politica del ricatto di Heidrich. In ciò era un vero maestro. Questa tattica di Canaris funzionò estremamente bene, soprattutto allo scoppio della guerra civile spagnola, quando si adoperò per organizzare gli aiuti militari ai nazionalisti di Francisco Franco e quello fu indubbiamente uno dei suoi più grandi successi. Il Ministero degli Esteri tedesco, ovvero sia von Ribbentrop, bell'incapace che aveva pure lui il suo servizio di informazioni, dicevo, era spaventato dalle implicazioni di un simile intervento, ma in ultimo Hitler promise agli emissari di Franco gli aiuti richiesti ed un contingente di aerei da guerri tedeschi, seguiti da ufficiali della Luftwaffe in incognito, che ben presto fu in viaggio verso la Spagna. Quando l'ammiraglio Canaris arrivò in volo a Salamanca nell'ottobre 1936 per incontrarsi con Franco, il capo dei nazionalisti spagnoli lo accolse calorosamente, scusate, e te credo, dato che fu lui a spingere e a favorire gli aiuti tedeschi ai nazionalisti spagnoli. Canaris amava viaggiare soprattutto nel sud dell'Europa e dedicò ai viaggi quasi altrettanto tempo che all'ufficio e talvolta assegnò a se stesso missioni che tecnicamente sarebbero state di competenza di un agente di rango inferiore. Una volta mentre rientrava in auto dalla Spagna, una tempesta lo costrinse a fermarsi e a cercare riparo. Mentre il personale del quartier generale di Tirpitz-Üfer lo cercava affannosamente, Canaris se ne stava tranquillamente al riparo in una fattoria dove aveva trovato asilo. Quando Heydrich, pignolo, freddo, calcolatore, precisetti e rompicoglioni come pochi, lo venne a sapere e osservò ironicamente. Ma è così che l'Abwehr venne diretto? Viene diretto? Beh, in realtà era proprio così che Canaris dirigeva l'Abwehr. Le ispezioni di Canaris, continua von Lüttichau, terrorizzavano i suoi subordinati. Secondo le memorie di Wilhelm Oetl, agente austriaco dell'Abwehr che in seguito lavorò anche per i rivali dell'SD di Heydrich, era solito mettere ogni cosa sottosopra e lasciarsi dietro una gran confusione. I capi sezione che conoscevano questa sua abitudine gli mettevano puntualmente alle calcagna un funzionario incaricato di rimettere tutto in ordine e a posto come prima, ignorando eventuali istruzioni o ordini dell'ammiraglio, cosa che potevano fare senza alcun rischio poiché Canaris non si preoccupava mai di verificare che i suoi ordini venissero eseguiti. Ah, e ci lamentavamo del controspionaggio militare italiano. Vabbè, parliamone. Ok, allora, dicevo, Canaris aveva anche altre peculiarità che lo rendevano però un superiore difficile, per non dire impossibile. Era lunatico e notoriamente ipocondriaco, era letteralmente terrorizzato dai germi. Chi starnutiva in sua presenza rischiava di vedersi licenziare su due piedi. Quando parlava con i suoi subordinati era brusco e impaziente. Li interrompeva continuamente dicendo curser, curser, ovvero sia stringi, stringi. Detestava inoltre le decorazioni militari, infatti indossava le sue medaglie molto di rado. Sempre secondo Oetel la vista di una decorazione lo metteva di cattivo umore ed un ufficiale che gli si presentava di fronte con il nastro della croce di Cavaliere, poteva essere certo che le proprie richieste sarebbero state respinte. Ah, la stravaganza più nota di Canaris era però il suo amore ossessivo per gli animali e in particolare per i suoi due bassotti, Seppel e Sabine, che lo accompagnavano ovunque sulla sua Mercedes limousine e nei corridoi dell'ufficio. Canaris parlava loro continuamente ed era convinto che chi non amava i cani fosse inaffidabile. Vabbè. Questo atteggiamento sconcertò il capo della sezione 2 dello Abwehr, il colonnello Erwin Lausen, che scrisse Canaris fu il superiore più difficile in cui mi imbattei in 30 anni di carriera. Non sapeva giudicare la gente, per accattivarselo bastava acquistare un cane o cospargere di semi per uccellini il davanzale sotto i suoi occhi. Il comportamento di Canaris sbigottì anche Ötel, che, insomma, una spia con decenni di carriera ce ne vuole per stupirlo, che osservò che la sua passione per i cani era tale da non fargli sentire bisogno di affetto umano. I bassotti dell'ammiraglio, continua Ötel, erano il terrore del suo entourage, la loro salute era la sua maggiore preoccupazione e per lui erano più importanti di qualsiasi essere umano. Se uno dei due era affetto dal più piccolo malessere, cadeva in una profonda depressione e trascurava il lavoro. Ovunque si trovasse, in Germania o all'estero, immancabilmente Canaris telefonava ogni giorno per avere notizie dei cani, pretendendo di essere informato dettagliatamente sul loro menu e sulle loro funzioni intestinali. Una volta il capo della polizia segreta spagnola ascoltò la registrazione di una telefonata che l'ammiraglio aveva fatto da Tangeri a Berlino, sperando di trarne qualche ghiotta informazione politica. Con suo grande stupore, udì invece una descrizione minuziosa delle funzioni intestinali di un bassotto malato. Comunque sia, Lavver riuscì anche, nonostante le idiosincrasie e le manie del suo capo, Lavver continuava a lavorare con successo, grazie soprattutto alla grande autonomia che avevano i sottoposti di Canaris. In Gran Bretagna nel 1938 aveva Lavver circa 250 agenti, tra cui diversi domestici che lavoravano nelle case di importanti funzionari governativi e Canaris poteva annunciare sempre nell'agosto del 1938 di possedere le carte topografiche della maggior parte degli aeroporti e delle installazioni costiere inglesi, tra cui i depositi di petrolio che sorgevano fra Londra e il porto di Hull sul mare del nord. Insomma, Canaris. Un personaggio così è sicuramente difficile da definire. La sua continua guerra con l'SD, la sua rivalità con Heidrich, la sua rivalità con l'SS, da prima il suo appoggio alla salita al potere di Hitler, poi con la faccenda dello scandalo Frisch, delle accuse false create dall'SD di Heidrich per screditare il generale Frisch. Canaris si rese conto di avere appoggiato gente che avrebbe trascinato la Germania alla rovina e da allora iniziò la sua feroce guerra nei confronti contro Heidrich, contro l'SD, contro le SS. Una guerra che nel 1944, dopo l'operazione Valchiria, lo vide soccombere. Fu, come dire, arrestato, condannato e impiccato, nudo a un gancio da macellaio con una corda da pianoforte. Una fine terribile per un uomo, l'ammiraglio Canaris, eccolo qua, in questa curiosa foto che lo vede con indosso un berretto da tenente di vascello italiano durante una visita in Italia. Canaris fu, come dire, indubbiamente un maestro della guerra di spie, ma le sue manie che probabilmente nascondevano quasi sicuramente un qualche disturbo psichico. Qualcuno ha detto sindromi, insomma qualcuno ha detto disturbo bipolare, qualcuno ha detto disturbo ossessivo compulsivo, qualcun altro parla ancora di borderline, ma oggettivamente un personaggio che si comporta così non ha tutte le rotelle a posto, diciamoci la verità. La curiosità è che tra i pochi dello Abwehr che si salvarono dall'ecatombe successiva all'operazione Valchiria e quando l'OSD finalmente riuscì a incorporare, ad assorbire, a divorarsi, a fagocitarsi l'Abwehr fu uno degli uomini di fiducia, uno dei pochissimi uomini di cui Canaris si fidasse, non dico ciecamente ma quasi, perché ripeto Canaris era un uomo che si fidava molto poco delle persone ma si fidava molto di più degli animali e non è il solo. Magari non del tutto a torto, però diciamo così, passare un'ora sei in missione a Tangeri, devi parlare, devi fare una missione molto importante, sei a Tangeri, telefoni a Berlino per sapere come cagano i tuoi cani. Questo la dice lunga sul personaggio, dicevo, uno delle poche persone di cui Canaris si fidasse, ma che fu anche una delle poche persone a salvarsi dall'ecatombe dopo Valchiria, fu il suo autista e tuttofare, ovvero sia Georg Scherchmeier, detto il sergente di ferro. Sapete chi era Georg Meier? Ve lo dico io. Fu in sella alla BMW Compressor il vincitore dell'ultimo Tourist Trophy, dell'ultimo Senior Tourist Trophy dell'Isola di Man nel 1939 prima dello scoppio della guerra. Un grande pilota automobilistico, un grande del motociclismo che fece la guerra come tuttofare, come autista, messaggero, portaordini, agli ordini dell'ammiraglio Canaris e fu uno dei pochi a salvare la pelle o quantomeno a non essere spedito sul fronte russo per i suoi rapporti con Canaris. Insomma, l'ammiraglio Wilhelm Canaris. Io ho lanciato il sasso nello stagno parlandone in questo video. L'uomo, ve l'ho detto, viene definito un personaggio strano, un personaggio tormentato, tormentoso, un personaggio incoerente, un personaggio difficilmente definibile. Io penso che veramente non avesse tutte le rotelle a posto, che fosse una grande spia, ma che il suo modo di fare denunciava un grave disturbo psichiatrico, secondo me. Ma io, come già sapete, sono soltanto un ignorante appassionato autodidatta con la terza media. Le poche idee, cioè il poco che posso dire su un personaggio come Canaris è che andrebbe studiato con maggiore attenzione rispetto a quello che si fa, perché viene sbricativamente liquidato come un traditore che ha lavorato per tutta la guerra contro la Germania. Ma in realtà alcuni dei più grandi successi militari della Germania nazista si devono proprio all'abilità di agente segreto, di organizzatore, di pianificatore, insomma neanche tanto di pianificatore, perché ripeto abbiamo già detto che era un uomo che amava decisamente poco il lavoro di ufficio, ma all'abilità spionistica di quest'uomo. Un uomo che veramente io faccio fatica a definire. Traditore? Forse. Patriota? Forse. Abile spia? Sicuramente. Uomo assolutamente indefinibile, uomo indecifrabile. Ecco, ho trovato la parola giusta. Un uomo indecifrabile. Quindi, cari signori, se volete aiutarmi a decifrare un pochino la figura dell'ammiraglio, Wilhelm Canaris, io vi dico soltanto una cosa, parliamone, discutiamone, ci sono i commenti, aspetto i vostri pareri. Tutto qua. Quindi, cari signori, il sottoscritto Metal Mike, ottimo massimo, metallaro, per grazia di Dio e volontà della nazione, vi saluta e vi augura buonanotte. Arrivederci. Grazie. Grazie.